Il popolo egiziano, una storia millenaria. Gli egiziani sono il popolo che abita l'Egitto, un paese situato nell'Africa nord-orientale. La loro storia è lunga e ricca, risalendo all'antico Egitto, una civiltà che fiorì lungo il fiume Nilo per oltre 3.000 anni. Origini. Le origini degli egiziani sono ancora oggetto di dibattito tra gli storici. Alcuni ritengono che discendano da popolazioni africane, mentre altri sostengono che siano il risultato di un mix di popolazioni africane, asiatiche ed europee. Antico Egitto. L'antico Egitto è una delle civiltà più antiche e influenti del mondo. I suoi abitanti svilupparono un'avanzata cultura, che si manifestava in architettura, arte, letteratura, religione e scienza. I faraoni, i sovrani dell'antico Egitto, erano considerati divinità viventi. Erano responsabili della protezione del popolo e del mantenimento dell'ordine cosmico. Medioevo. Dopo la caduta dell'antico Egitto, il paese fu conquistato da diverse potenze straniere, tra cui i greci, i romani e i bizantini. Islam. Nel VII secolo dici l'Egitto fu conquistato dagli arabi, che introdussero l'Islam nel paese. L'Islam è oggi la religione principale degli egiziani. Modernità. Nel XIX secolo l'Egitto divenne un protettorato britannico. Nel 1922 il paese ottenne l'indipendenza. Società. La popolazione egiziana è composta da circa 100 milioni di abitanti. La maggior parte vive nella Valle del Nilo, che è la sola zona arabile del paese. Gli egiziani sono in prevalenza musulmani, con una minoranza cristiana copta. Lingua. La lingua ufficiale dell'Egitto è l'arabo. Tuttavia, in alcune zone del paese si parlano anche altre lingue, come il copto e il beduino. Cultura. La cultura egiziana è un mix di influenze africane, asiatiche ed europee. Tra le tradizioni egiziane i più importanti vi sono la musica, la danza e la cucina. Conclusione. Gli egiziani sono un popolo con una storia millenaria e una cultura ricca e affascinante. Sono un popolo ospitale e accogliente, che è sempre felice di condividere la propria cultura con i visitatori. Alcuni aspetti della cultura egiziana. Religione. L'Islam è la religione principale degli egiziani. La maggior parte degli egiziani è sunnita, con una minoranza sciita. Lingua. La lingua ufficiale dell'Egitto è l'arabo. Tuttavia, in alcune zone del paese si parlano anche altre lingue, come il copto e il beduino. Arte. L'arte egiziana è ricca e variegata. Tra le forme d'arte più importanti vi sono l'architettura, la scultura, la pittura e la musica. Cucina. La cucina egiziana è saporita e varia. Tra i piatti tipici vi sono il fulme d'ames, fagioli, il kushari, riso, pasta, lenticchie e ceci, il falafel, polpette di ceci, e il kebab. Tradizioni. Tra le tradizioni egiziane i più importanti vi sono la festa di Eid al-Fitr, che celebra la fine del Ramadan, la festa di Eid al-Adha, che celebra il pellegrinaggio alla Mecca, e il Maoli dal-Nabi, che celebra la nascita del profeta Maometto. Il futuro degli egiziani. Gli egiziani sono un popolo resiliente che ha attraversato molte difficoltà nel corso della sua storia. Sono un popolo determinato a costruire un futuro migliore per se stesso e per il suo paese. L'Egitto è un paese in via di sviluppo con un grande potenziale. Gli egiziani sono impegnati a migliorare l'economia, l'istruzione e la salute del paese. Il futuro degli egiziani è promettente. Con il loro duro lavoro e la loro determinazione, sono in grado di costruire un paese prospero e giusto per tutti.